novanta minuti alla fine del campionato e non abbiamo ancora una regina nel girone b di serie di amici di serie di lombardia bentornati a una nuova puntata a una delle ultime a meno per quanto riguarda il calcio giocato bentornati da parte mia paolo zerbi siamo pronti a vivere proprio gli ultimi 90 minuti più che mai decisivi nel girone b appunto dove sono rimasti in due a giocarsi il campionato non ci sono squadre lombarde caldiero contro piacenza col caldiero che ha un punto di vantaggio entriamo nell'analisi però di quanto successo in entrambi i gironi girone a e girone b partiamo proprio dal girone a dove nel turno che abbiamo appena messo alle spalle l'alcione è caduto in trasferta sul campo dell'asti una sconfitta in dolore visto che appunto la squadra di kusatis ha già vinto il suo campionato pareggio senza reti al franco ossola tra città di varese e vogherese andiamo a vedere la classifica che vede appunto l'alcione prima il raggiungibile e che giocherà la sua ultima partita all'arena di milano come per celebrare appunto questo suo trionfo vedete il varese sempre in zona playoff manca un punto la squadra di cotta per essere certa del obiettivo mentre invece la vogherese deve stare attenta superata proprio per l'ultimo turno dal dertona e quindi insomma deve proprio conquistarsi la salvezza con la possibilità che appunto la squadra rossonera vada ai play out noi ora andiamo a vedere invece tutti i gol di giornata tutti o quasi visto che tra 0 a 0 e qualche telecamera automatica che non ha fatto il suo dovere noi li abbiamo proprio tutti però insomma li guardiamo insieme 23 gol nel girone a di serie di sconfitta in influente dell'alcione ad asti passano però gli ospiti col rigore di manuzzi che sblocca la partita nella ripresa la reazione piemontese prima con una bella azione sulla destra che porterà poi alla girata vincente da parte di giacchino che realizza così il gol del pareggio 1 a 1 momentaneo poi sempre giacchino dopo un break sulla tre quarti trova il destro vincente sotto l'incrocio dei pali per il gol del 2 a 1 finale cade anche il chisola sul campo del ligorna vantaggio piemontese però col solito rizk che di testa gira in rete il corner dalla sinistra esulta il bomber del chisola ma nella ripresa si scatena il ligorna bella azione tutta di prima palla dentro dalla sinistra sul secondo pallo è ben appostato manno che non perdona lasciato un po solo però dalla difesa piemontese sempre manno segnerà poi il gol del 2 a 1 finale lancio lungo dalle retrovie spizzata e stavolta l'attaccante si mette in proprio con un vero e proprio colpo da bigliardo segnando il 2 a 1 al quinto posto resiste però sempre il vado che supera il borgosesi a bel gioco di gambe di capra sulla sinistra è incornata vincente di mercai nella ripresa agli altri gol dopo l'esultanza dei giocatori liguri segna anche lo bosco che di voglia manda in rete un pallone proveniente ancora dalla fascia sinistra il 3 a 0 invece lo segna un difensore michailovski su corner battuto dalla destra eccolo qui la rete del ex difensore anche del fenegrò nel finale invece fa tutto donaggio che si mette in proprio il suo tiro non dà scampo al portiere colpo esterno del bra dal benga punizione di marchetti palla alzata campanile e tiro di collo pieno di marchisone che non perdona il portiere rete numero 11 in campionato ma arriverà anche la 12 con questa palla dentro girata in rete dal giocatore giallorosso vittoria esterna del gozzano sulla fezzanese il rigore di capellupo sblocca la partita in favore del gozzano nella ripresa il raddoppio rosso blu con schimmenti che trafigge il portiere al termine di una bella azione personale il rigore di santeramo rende meno amaro il passivo per la fezzanese che deve comunque alzare bandiera bianca chiudiamo con la rete di guei e col dertona ad oggi salvo pari senza reti tra varese vogherese sanremese pinerolo rgt cino e lavagnese non abbiamo i gol di chieri pondonaz bene passiamo ora al girone b di serie d quello che regalerà emozioni negli ultimi 90 minuti per la vittoria del campionato andiamo a vedere insieme i risultati vedete la vittoria del caldiero terme per tre a due e poi andrete a vedere i gol e capirete come è arrivata a questo successo al quinto minuto di recupero con la piacenza che quindi resta indietro di un punto fa il suo dovere contro la real calepina la varesina che affronterà proprio la piacenza nell'ultimo turno vince in extremis a sua volta sul campo del brusaporto e si porta a più due con sull'arconatese che invece pareggia a desenzano col desenzano che non può più vincere il campionato come il palazzolo ma con le due bresciane che sono certe di andare ai playoff in coda vedete la vittoria del legnano con la casatese settimo risultato utile consecutivo per il villa trascinati sempre da un grandissimo Gianmarco staffa due gol e due assiste un gol scusate nell'ultima partita mentre la castellanzese incappa nella quarta sconfitta consecutiva viene superata proprio dal legnano andiamo a vedere la classifica vedete in coda appunto il sorpasso del legnano in ottica play out contro sulla castellanzese mentre in vetta come come vedete spiccano ovviamente caldiero e piacenza che si giocheranno tutto nell'ultimo turno in trasferta e caldiero sul campo del villavalle e il piacenza come detto sul campo della varesina che deve ancora prendersi i playoff noi ora andiamo a vedere tutti i gol quasi li abbiamo tutti e sono tanti li vediamo insieme con la nostra grafica 29 gol nel girone b di serie d in una giornata da mille emozioni cominciamo da caldiero ciserano bergamo vantaggio subito dei veneti con zerbato al primo minuto del secondo tempo sorprende il difensore della virtus e non sbaglia solo davanti al portiere dall'altra parte bertoli non perdona dal dischetto uno a uno ma nuovo vantaggio giallo verde con fasan palla dentro in area di rigore tiro sul secondo palo che non dà scampo al portiere sembra fatta ma da corner la virtus trova il secondo pareggio con nessi che firma così il suo settimo gol in campionato 2 a 2 risultato finale ma che quinto minuto di recupero caldiero che ci crede sul tiro da fuori di chigiato tapin vincente di filicciotto che scatena la grande festa giallo verde piacenza che invece ha meno problemi contro la calepina cross dalla destra di kernezzo e girata vincente di indoi e dopo soli nove minuti di gioco nel match vantaggio biancorosso e chiosa nella ripresa bella palla dentro per bastanini che da due passi non può sbagliare poi al quinto minuto di recupero arriva il calcio di rigore segnato da giorgio recino per il 3 a 0 che sarà anche il risultato finale del match solita vittoria di misura della propria la solo che doma il caravaggio bellissima però l'azione sulla sinistra scambio dentro l'area di rigore tocco ravvicinato di bane che da due passi non sbaglia e la palazzolo si prende playoff 1 a 1 tra desenzano arconatese vantaggio oro blu con ronzoni che controlla un cross di gentile dalla sinistra e non sbaglia mandando il pallone in fondo al sacco esulta il numero 10 dell'arconatese gli oro blu cullano il sogno dei tre punti ma nel secondo tempo bianchetti appena entrato riceve il pallone sulla destra punta medici che arretra un po troppo e sul tiro del numero 19 anche giroletti non è perfetto 1 a 1 e anche il desenzano vai playoff quinta in solitaria allora la varesina che passa brusaporto bellissimo 1 2 tra vitale gasparri il numero 90 non può sbagliare solo davanti al portiere tornando a fare le famosissime capriole simbolo d'esultanza replica però il brusaporto sempre nel primo tempo con sec che controlla il limite dell'area sorprende basti con un tiro da fuori 1 a 1 segnato dal ex giocatore anche della giana minuto 95 la varesina ci crede di più server e jana cruz anche fortunato con una deviazione ma la premia gli audaci e arriva così il gol del 2 a 1 finale per le fenici trist del legnano alla casa tese trascinatore sempre staffa due assist del numero 7 per la doppietta di todai che prima sblocca la partita con un gol segnato sul secondo palo poi dopo una spizzata di picchi trova il destro di potenza vincente per il gol del 2 a 0 riapre la partita la casa tese poco dopo con isella che gira di testa in rete la punizione di romano ma nel finale il calcio di rigore di staffa chiude i giochi due assiste un gol per il leader del legnano lilla che superano la castellanzese che cade sul campo della clivense vantaggio lampo con brighenti che sorprende la difesa nero verde dopo soli 4 minuti di gioco non il miglior avvio sempre nel primo tempo il raddoppio della clivense con colferai che approfitta di un'uscita non bellissima del portiere segnando il gol del 2 a 0 nella ripresa ci sarà il calcio di rigore di mario chessa ma sono 4 e capo di fila per i nero verdi di roncari vittoria di misura del crema sulla folgore caratese gallo controlla spalle alla porta giro e tiro e nero bianchi sono ancora vivi a 90 minuti dal termine festival del gol tra ponte san pietro e villavalle palla dentro per ningue che dalla linea di fondo sorprende il portiere giallorosso porta in vantaggio i blues replica della villavalle nel secondo tempo girata di testa di ferrario per l'uno a uno poi da una punizione colpo di testa di priola il villavalle ribalta così il risultato esultano i giallorossi di marcos groma la partita ancora lunga critta direttamente da punizione trova il 2 a 2 con un bellissimo gol ma al quinto minuto di recupero viene premiato anche in questo caso la volontà del villavalle di vincere la partita lancio lungo del portiere spizzata sulla tre quarti ferrario vince il duello fisico con un bellissimo pallonetto firma il 2 a 3 che sarà anche il risultato finale chiudiamo con club milano trizium 1 a 1 4 espulsi guardate che gol si inventa maspero per il vantaggio della trizium replica poi dio nel secondo tempo sfruttando al meglio una giocata sulla corsia mancina il club milano si salva con una giornata d'anticipo al suo anno di esordio in serie di latrizium invece retrocede mestamente in eccellenza 90 minuti da giocare con caldiero terme e piacenza che vogliono realizzare il loro sogno il sogno del piacenza si intreccia con quello della varesina che vuole prendersi i playoff allora analizziamo quello che potrebbe succedere negli ultimi 90 minuti con il nostro servizio tutto in 90 minuti caldiero terme piacenza si giocano la vittoria del campionato a distanza anche se proprio lo scontro diretto tra giallo verdi e bianco rossi vinto dalla formazione di soave rischia di essere il crocevia di questa stagione caldiero a villa dal me con un punto di vantaggio sul piacenza che va venegono superiore con la varesina che deve ancora prendersi playoff fatte fuori le bresciane il duello si sposta tra veneto ed emilia zerbato contro recino il coltello dalla parte del manicolo al caldiero terme che dopo aver fatto sognare i 1200 spettatori del berti domenica scorsa vuol far sognare un paese intero bene siamo arrivati anche questa volta in chiusura io vi do appuntamento a settimana prossima per un'altra puntata di serie di lombardia sarà quella in cui appunto celebreremo una tra caldiero e piacenza e poi faremo proprio il appunto in vista poi di playoff e play out arriveranno i verdetti si comincerà anche a parlare di futuro quindi state con noi sempre qui su rete 55 canale 88 del digitale terrestre per serie di lombardia la trasmissione che vi racconta del massimo campionato direttantistico un saluto a tutti ciao 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 ciao